Giovedì gastronomico vuol dire che è una formula vincente, azzeccata e siamo all'ottava edizione perché? Perché dà l'opportunità ai ristoratori di esibire, devo dire, tutte le qualità che possono avere con le nostre materie prime e dimostrare come si può fare un menù completo nella nostra bellissima provincia e in più cerchiamo di dare alla clientela una grande offerta con un prezzo contenuto e la tipicità in tavola. Naturalmente è una formula vincente vedendo anche i periodi un pochino, un po' più magri in cui stiamo passando ma si può dimostrare che con i nostri prodotti riusciamo anche a fare dei menù di eccezionale qualità, di prezzi contenuti il che in questi momenti la gente ci guarda e ne ha bisogno e noi cerchiamo di andare in conto a queste esigenze.